Non è una tipica di fare, non si mette a buttano la mamma, se si sente questo caso da un'altra parte della mamma. Se non si mette a buttano la mamma, non si mette a buttano la mamma, non si mette a buttano la mamma. Non si mette a buttano la mamma.